PORCULLAMA Nella galleria Sì scusa Dopo le arrabbiature La cosa più brutta di questo gioco E' quando si tiene chiesto in due Uno viene atterrato E gli avversari anziché pensare a voi che gli state sparando Vanno a stare sul morto Che apprende a frustarli Che fastidio Vai andiamo la C'è altra gente che sta andando esattamente lì La galleria secondo me è un po' nincolata Sì stanno in galleria Aspetta quella madonna Invece no no vaci tu in galleria Qui sta entrando Sì forse due stanno girando Aspetta eh attento Eh Albert attento si trova C'è qualcuno? Sì due No sono già armati Fuggi fuggi e basta Sono morto Almi sta sparando Cristo Sai che ti raggiungo Sto morendo Cristo sto correndo anch'io ma non ce la farò mai Aspetta Mi stanno sparando sto dietro la colonna Aiuto Albert si spongiura Ho sparato una roba raffica a caso Sto morendo Albert Alba aiuto Aiuto sto schivando i colpi Vieni qua da me Aspetta vai che gli fai uscire buono Vai a mazzerli Falli fuori Uno mi ha ferito C'è uno l'ho messo a terra Non è possibile Non lo so neanche io Non lo so neanche io No con la pistola Cappo No dovevi caricare aspetta Oh mio dio Non stai capendo Non stai capendo Non stai capendo Non stai capendo Ho la R ho la R Sto arrivando sto arrivando Sto arrivando Arrivo ho quattro di vita Però proverò ad aiutarti Vieni da me vieni da me Vieni da me Vieni tu vieni tu Quasi sei tu su secondo me È sulle scale aspetta Quanto iniziamo ad ammazzare questo coglione a terra Grande Uff Madonna Mamma mia Guarda ho sei di vita Io ho quattro Non so come è possibile che non mi abbiano ucciso Oh mio dio mio A un certo punto ero dietro la colonna Che mi scrivavo i colpi E lui era lì che provava a colpirmi Poi io avevo sempre il dubbio Perché quando ne hai due davanti Non sei mai a quale spara C'è un altro Sì no vieni da me Non lì Dove sei tu ce ne sono due mi sa C'è un'arma viola Albe Un pompa viola Prendilo No no si è morto Stanno spando a te No grande Si stavano Oh mio dio Dove è l'altro Dove 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 è l'altro Qui per forza in zona c'è Ah non lo vedi neanche Porco mi sono incastrato Ma come posso giocare con quattro di vita Vedi che ti ho due bende Compattati Cioè l'altro sarà qui in zona Ma è morto Non è morto subito quindi No no l'ho ammazzato io L'ho challengeato con quattro di vita Pensa che è malato Vieni vieni qua dentro ti do due bende C'è due una No due Sì dai meglio due Perché anch'io non ho vita però te le do tutte Vai Minchia quattro di vita assurde Ma hai un pompa oltre a quello viola c'è anche questo qua Ehm pigliatelo pigliatelo Ok Ok Ora aspetta guarda vieni che Io non ho lootato la casa quella di mattoni eh Deve essere pieno vieni No secondo me vabbè c'è gente qui intorno eh No ma può essere sia venuto da solo Perché in effetti io non ho contato quattro persone L'ho mai vista Quindi dai io vado a lootare Lo so che per ora è un miracolo tutto quello che è successo Sì è dell'incredibile Speriamo che Dio ci stia Graziando per tutto quello che ci è successo Nelle parete precedenti Giftati da Jesus Christ Giftati proprio lo scrivo nel titolo Allora vediamo un po' Uh un'altra pompa verde Ecco non ce ne facciamo nulla però Adesso la cosa bella è se qualcuno ha piazzato una trappola in qualche posto dove andiamo L'unica è questa Tipo ci fanno ruttare tutto e siamo pronti E poi moriamo per una trappola Ti immagini Ah grazie a ciò delle band Io sto parlando un po' di roba in giro Trappola Messa da me Vieni poi tirare le band Ne ho tre Faccio una cassa Che armi hai per ora? Ehm in che senso quante armi hai? Che armi che armi Ah ma R di merda è Ho il trampolino mi sento male Vai buono lo sfrutteremo al meglio Cristi io non ho munizioni però ho pistola C'ho 13 munizioni aspetta Vabbè col trampolino ci possiamo salvare Vai tanto ci siamo già messi bene per ora nella Con la safe qua C'ho anche lanciaganate via Scusa ma tu hai lootato dentro nel tunnel Hai guardato se avevano spaccato il muro? No E' che non si sa mai vedendo che non avevano nulla Boh Albe c'ho pompa viola lanciaganate viola e trampolino viola Cioè dobbiamo sfruttarle queste cose te lo dico Sei zitto? No? Cioè così vanno hanno spaccato il muro Te ne rendi guarda Abbiamo avuto tempo Albe si è bucato io all'improvviso davanti a loro Senza armi Bello vuoto La prima volta che mi succede nella vita Ok ci siamo Boh miracolati veramente Guarda andiamo Sai che vengo io verso di te Andiamo qua più o meno Dove? Nel puntino blu Nel puntino blu In quella zona lì perché non abbiamo Non ho munizioni Non ho armi niente Quanti su Quante munizioni hai di R? 60 Eh dammene 15 Quante ne hai scusa? 10 Come si fa a droppare il numero? No fermo fermo A dropparne il numero limitato Hanno cambiato tutto No no con quei No come hai seguito vai Ok ok Andiamo Bella Andiamo verso la safe Non andiamo in quel punto di merda Albe No è dentro la safe quel punto E lo stai dicendo Dove? Ah ok ne l'avevo visto Almeno là c'è qualche casa Qualcosa perché Così non si può Oh voglio fare kill finale con il trampolino te lo giuro Il trampolino è pompa Se stiamo morendo lo attiviamo e scappiamo Ma quella casetta io non voglia andarci però Certo c'è qualcosa Stiamo attenti che nella Lì avranno già luttato quindi Non si capirà dove la gente Munizioni del pompa Buono Siamo rimasti in 43 Quante kill hai tu? 1 a 3 ok Qua non ho costruito Ecco stanno costruendo qua qualcosa? Ho visto 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 Non li vedo però Se vieni su Infatti vieni su andiamo qua sopra Muoviamo il c piano Sto strisciando Stanno spaccando i controlli Eccolo lo vedo uno giù in fondo Eccolo aspetta Spacca sto gran cazzo Vai grande Mi sa che ce l'ho davanti Scaroro per l'amulaganto Hai lo scaroro? LOL Vai è fatta È andata Ma c'è un altro qua in zona eh Ma l'ho ammazzato io l'altro eh Ah l'hai fatto fuori tu? Sì sì l'abbiamo ucciso in contemporanea Per un'azione Davvero tigna Che neanche me ne sono accorto Ok Bene qua anche munizioni No dai stiamo a posto Lo scaroro ce l'aveva il tipo o l'hai trovato a casa? No ce l'aveva il tipo che ho ucciso io Bella dai Dove sei? Io ho la R blu invece Dai saremo qua su Facciamo il giro dai Chiudiamoci già Facciamo il giro adesso andiamo verso Eh verso riterro dai L'ho messo adesso segnalino Verso quella zona lì che ci sarà qualcuno Qua verrà per forza gente Sì sì Però non ho materiali Ho inizio scoppiettante Aspetta che spacco giusto due cose Che ne ho zero per costruire qualsiasi cosa Noi non facciamo mai i fortini come Dio comanda C'è gente veramente che li fa bene e vince solo grazie a tutti Ma se ho visto il video di quello che si chiama I am the myth Non so se lo conosci Tipo il primo al mondo su Fortnite E' una bestia malata Cioè fa delle costruzioni allucinanti Tutte al volo Fa le scale Sì se sai fare il fortino bene fondamentalmente sei immortale Perché puoi raggiungere punti altissimi E avere il controllo di tutto E avere un riparo indistruttivo C'è gente veramente che li fa bene proprio Insomma qui l'ho visto in un video dove c'è un altro dei più forti del mondo Che però non è Grims E' un altro che non mi ricordo Che va a prenderlo mentre lui dentro un fortino e non ce la fa Cioè lui lo ammazza E' troppo forte Bisogna saper fare i fortini Poi ovvio che su PC uno è agevolato Cioè gli fa meglio Molto più verace a fare le cose Poi puoi bindarti i tasti diversi Quindi fai come preferisci Comunque a riterro ci sape forza gente secondo me Quindi andiamo dritti per dritti qua Una pozza aspetta che mi va bevo subito Mi servirebbe un medikit 30 vivi Anche la granata è buono Che c'è da prima Mi possono servire Vedere un po' se qua c'è qualcuno Oh poi magari qualcuno non ha lootato bene riterro Che può sempre essere No li hanno costruito Hanno anche distrutto roba Aspetta Nessuno albergo Oh via 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 Ma è strano però è che Neanche di passaggio ci sia qualcuno Io sto correndo qua Sono visibilissimo Vieni qua Vieni qua Vieni qua i capannoni Sicuramente c'è gente Eh però no Stringi più Vai verso Salty Springs Cioè dico Punta tra i capannoni dai Salty Springs Perché Cioè se uno atterra qua a riterro E poi fai il giro Va o a Salty Springs O in quella fabbrica Quindi Però secondo me c'è ancora gente qui Ho questo presentimento Anche secondo me qua c'è gente Perché è strano Ci servirebbe un cecchino comunque Tu non ce l'hai vero? Sì 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 Ne ho uno però c'è No no dico basta che tu ce l'abbia Basta che tu sappia usarlo Sì 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 Più o meno Di usarlo come fedetta Per avvistarli No 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 Ora non c'è proprio nessuno in zona secondo me Ah laggiù Hanno abbandonato tutto cioè Qua hanno luttato Quindi andiamo via direttamente Ah vai verso Salty 38 vivi eh Non manca tanto Ah lì c'è una scav... Oh sparano Chi ti ha sparato? Ma ha sparato a te o no? Sì attento attento Che sono dietro di te Non sono proprio attaccato Vai Ma è lì dentro? E qui il tipo Si puttana troia Vai qui sto un po' più distante qua Sono sopra Se c'è uno sotto uno sotto C'era uno sotto E' ucciso quello sotto Grande dai buono così Che organizzazione Stiamo facendo tutte quante le killink Intemporanea Fa troppo ridere Stiamo rompendo Avevano qualcosa di utile? No 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 Sgancia munizioni io che ne avrai 300 No ne ho sempre 70 albe Non ho capito nulla Ti ho un cecchino se vuoi vedere Lo prendo io Lo prendo io Allora aspetta aspetta Stai fermo qua No non avanzare Non avanzare Fermo un attimo Capiamo Ma tu hai perso vita C'è Ebbè erano due che mi sparavano Eh no infatti si però Ma tu hai visto che puoi fare le scale Guarda Perché una cosa utile è quando uno fa Si puoi cambiare le scale lo so E puoi fare la parte così Riparata un lato Si 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 Eh se non riesco a fare Vabbè comunque Vabbè essere tipo Forse la puoi fare solo quando dentro Così Si però forse Ecco esatto Quella lì è fondamentale quando si è dentro il fortino Cioè ho visto quel tipo la Il primo al mondo le fa sempre così Quando sta dentro Andiamo Vai Si giriamo un po' aspetta Ehm Però è impossibile che non ci sia Tra gente d'assalti Springs eh Ma infatti Perché sanno dove questo Quando noi giriamo Che cazzo ce n'è prega Giriamoci la zona Come c'è il giretino magico Qualcuno lo becchiamo per forza ora eh 15 vivi Ehm Sono troppi 15 per questa dimensione Dobbiamo fare un colpo grosso ammazzando qualcuno che ha tanti materiali E farci il fortino Ora arriveranno alla safe secondo me Qua siamo in mezzo alla valle incantata Qua siamo visibili La valle incantata Si muore sempre qui c'è Stai attento a guardare un attimo sulla montagna laggiù Non vedo nessuno Nessuna parte Neanche giù Scusa è dove Cristo possono essere poi dire? Cioè non è che siano così pochi È 13 oltre noi Oh safe è piccolissima Albe Io direi di fortificare sta zona Cioè basta Poi se proprio siamo in mezzo Poi andiamo preventivamente sopra la montagna Secondo me le si chiude sulla montagna qua Per me qua è buono Albe Io allargo anche una cosa minima qua Ma porco Molto modesta come casa però La casa di tre porcellini Peggio Peggio Se spacco quest'albero No ma dove lo stai facendo? Ah vuoi fare una barriera laterale? Si qui almeno se non c'è un granate si scontra un po' Mi sparo Mi sparo No Albe mi ha tolto tutto Da dove? Da dove? Da dove? No se non è da dietro e sparava eh No 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 era da davanti Dico io Da davanti Non c'è nessuno davanti Un cecchino comunque potrebbe essere ovunque Perché anch'io sento lo sparo eh quindi Ah ecco li sono in fondissimo a west Sai che lo ammazzo? No ho mirato troppo in alto cavolo L'avrei ucciso quello Ho arrivato dai razzi Albe Eccovi lì Oh Cristo Ho saltato il piano del portiere Oh mio dio Sai ci sono munizioni qua? Però guardiamoci le spalle Deve uno sguardo anche dietro E infatti ci sparano da dietro Ci sparano da dietro Dai cantieri Porca puttana Uno l'ho sfiorato Eh siamo proprio al centro del mondo eh Qua è un bel problema Aspetta Eh Cristo come facciamo a beccare quello? Oh Cristo Me l'ho sfiorato anch'io però Del cazzo sono quelli che ci stanno sparando? Eh ma dappertutto ci stanno sparando Aspetta Stiamo circondatissi Possiamo usare il foro Per fuggire se vuoi eh Come ho fatto un bel caro? Sì sì fallo Vuoi finire col trampolino? Sì sì fallo fallo No ce ne scappiamo Vieni qua dentro qua Ok fermo 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 Fai una cosa Vieni qua Entra dentro Entra dentro Eh fuggi verso est Eh no Cristo Verso est Fai una porta dentro La faccio io L'ho fatta già Aspettate spostati Vai salta verso est Andiamo verso est Oh mio dio Si Ok li ho visti ho visti Ma mi si è buggato tutto Cosa C'è uno davanti noi Vabbè non ci ha visto sto down Ok Ok C'è anche lo scar ma lo posso pigliare? Si si è tuo è tuo Io su quello loro Ci sparo ci sparo ci sparo Vabbè mi sento male Vieni qua Corri qua corri qua corri qua C'è gente qui c'è gente qui Oh mio dio Quel trampolino L'avieto ce l'aveva salvato Però Ha salvato tutti St trampolino è stata Veramente la Ecco ho visto uno Sopra sopra L'hai visto? L'ho ferito? Provo Non so se ci arrivano dubito Però ci vuoi più No non ci arrivano mai No 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 lascia stare Stiamo qua vieni da me Vieni dietro un albero così Non lo sai falbe Non c'è molto da Eh lo so messo a fuggire C'è il drop lì Lo andiamo a picchiare Secondo me c'è roba tipo d'oro Vieni 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 Che poi stiamo tornando nel punto Si fatti Però è troppo utile quel trampolino Ah si è che io guardo qua Eccolo Aspetta Ok io non l'ho messo a terra Vieni qua albe vieni a me C'è la vinico da qualche parte aspetta Ti prego albe avvicinati Abbiamo il trampolino qua Qua c'è una trappola Cosa c'è? Oh mio dio mi sparano? Ah niente di che Eh però abbiamo Se venite di avviare Ma poi quello che ho ferito prima Dov'è finito scusa C'è uno l'ha ammazzato Mi sa non era lui Forse era lui Chi spara? Oh Leo Non so Mi stanno sparando cazzo 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 Usa il trampolino Quel trampolino è la vita Devi avvicinarti albe fondamentale Ci sono quei cecchini di merda di prima Ma dove sono ora? Che non li vedo più Non sono più di sopra Non li vedo nemmeno io però non so Ah ecco la stella l'ho visto E' nell'alberello No guarda la stella appena si ferma Quello è mortissimo Ma dov'è? E' in fondissimo a west Proprio west esatto West esatto Ok Ma si è buttato giù da dove Perché l'ho sfiorato Ah hanno fatto un fortino enorme No 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 sono scesi giù Sono scesi giù da quel fortino Eccoli Dove? Dove? No albe mi stanno sparando Io non capisco dove in realtà Ah ecco l'ho visto E' sotto ai piedi della montagna Sta arrivando un razzo Ma se usassimo il trampolino per challengerli? E' risultato perché loro ci possono sparare in aria No saliamo nella montagna Non so se ci arriviamo Oh io lo uso Oh Cristo Oh albe albe ho fatto una cazzata Ho fatto una grande cazzata Ti prego vieni da me No non ci sono salito Anche io per sbaglio aspetta No aspetta io ho sbagliato tutto Non vuole aspetta Vabbè mi stanno challengeando Sono morto Vai uno l'ho messo a terra Mi sto sparando con il lanciagranate Grande Anche l'altro l'ho fatto Godo godo Grandi Guardiamo nel nostro trampolino E mettiamo l'ultimo Con un trickshot E' l'ultimo ce ne sono tre Ah l'ho visti l'ho visti l'ho visti Sono a sud est Sta costruendo sopra Ma sai che prendo il lanciagranate qua? L'hai visti? No Non stavo guardando Dov'è che sono? Mamma mia li sto hitando Nella roccia Una roccia grande? Aspetta Nooo Sono due nella roccia la a sud Chi è che sta? Ah sei tu? Mi sono piegato in mano Oh io uso il trampolino di challenge Albe Vai se ce la fai Però non so se ce la fai Il trampolino boh Ma attento che c'è un altro oltre a questi qua eh E non sappiamo dove sia E non c'è io Salgo nella montagna altissima dietro di loro Vai io provo aiutarti da qua dietro perché Se moriamo tutti qua abbiamo finito Vabbè gli sto andando dietro eh Sai che spero che mi spari no? Oh mio Dio mi spara qualcuno? Lancia razzi a destra a sud Vabbè non hai capito sto facendo la cazzata più grande della mia vita Eh guardano eh Albe sono nella montagna più alta del gioco penso c'è Guardami guardami Eh guarda davanti a me di fronte a me mi stanno ammazzando Albe sono Leo mi sta sparando mi sta sparando Ok ok ce l'ho Ce l'ho Challenge a uno Sta morendo a terra uno L'altro L'altro Sta morendo Non riesco a prenderlo Vai baciato Ok c'è l'ultimo Ok c'è l'ultimo lo dobbiamo trollare Albe te lo giuro su dio lo dobbiamo trollare questo qua C'è guarda dove sono io guardami non sono mai stato qua in alto Si no ti ho visto benissimo Aspetta Faccio lanciare granate aspetta Mi curo Anche io dovrei curarmi un po' Oh mio dio qua muoio tantissimo Aspetta ho quattro di vita Ti prego non ucciderlo Ti prego non ucciderlo a caso Dov'è? Ah no Lo sto buttando giù la scala così non mi posso salire Ma guarda che deve essere verso est Dove può essere se no? O è nascosto sotto di te non lo riesci a vedere? Io so solo che non posso fare dei ripari in questa zona qua Vai ma dovrebbe essere in alto quanto te per vederti scusa No posso farmeli invece? No vabbè mi sto facendo un fortino Albe Vai Leo Ecco il cielo no 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 Ho spattato una cosa a caso Spero di non beccarlo E' laggiù è laggiù E' laggiù a destra Aspetta che lo distraigo un po' Aspetta vediamo un po' E' qua a 60 più o meno Ma lui ha il trampolino Il nostro trampolino Guarda se ci usa contro ci ammazza e ridò troppo Guarda che c'è un problema qua Si sta glicciando il gioco Cosa vi sta glicciando il gioco? Abbiamo fatto una cosa cioè Non so come... Cosa Cristo hai fatto? Sto facendo guarda una torre da qua Guarda è qua è più o meno chiuso qua davanti a me Io vado dinoscopes lo becco No Albe ti prego devi salire qua da me Si sta chiudendo Si sta chiudendo ora che muore il tipo Ma è lì davanti non ucciderlo ti prego Ma è qua davanti davanti Ma è qua davanti davanti Sto sparando senza mirare qua Lo succederà mai io Il senza mirare lo stavo ammazzando Ah anche io guarda dove ho sparato Aspetta No l'ho sparato Vabbè non devi ucciderlo Dobbiamo intrappolare ti giuro Lo intrappoliamo ti prego E' un coglionazzo Mi farò un colpo per ferirlo Lo ferisco lo faccio cagare in mano Lo iltato Ok lo iltato Gli ho tolto lo scudo Capito mi sparo dei cagli Ah se che l'ho sparato una No 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 fermo E cosa fermo? Mi stai inseguendo? No no mi stai inseguendo Non chill Vabbè E' buona così Abbiamo fatto un sacco di kill Quante kill hai scusa? Io ne ho 9 15 kill No era un punto leggendario te lo giuro Oh mio dio Eh ce l'avevamo quasi a fare la kill finale fantastica Però è buono così Quindi ragazzi Grazie per aver guardato il video Ringraziamo Leo Porcolama a tutti ragazzi Ci vediamo dopo l'omega del prossimo video Anzi domenica Ciao ragazzi Ciao ciao Ron è sexy Porcolama Ciao 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 ciao